La relazione in esame costituisce la risposta del Parlamento alla comunicazione della Commissione sulla strategia europea per una mobilità a basse missioni, per la quale sono competenti ciascuno per la propria parte, le Commissioni TRAN ed ENVI, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento. La mobilità sostenibile a basse emissioni è uno degli elementi fondamentali della più ampia transizione verso un nuovo modello di sviluppo che come europei stiamo cercando, l'economia circolare a basse emissioni di carbonio di cui l'Europa ha bisogno per rimanere competitiva, per creare nuova e buona occupazione, per soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e delle merci. La sfida alta consiste nel definire e soprattutto nell'attuare concretamente nuove misure per sviluppare trasporti alimentati ad energie alternative a basse emissioni, tanto a livello globale quanto a livello europeo. Del resto, non dobbiamo dimenticare che i trasporti contribuiscono oggi per un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell'Europa e sono, lo sappiamo bene, la causa principale dell'inquinamento atmosferico. L'obiettivo che ci siamo dati è chiaro. Entro la metà del secolo le emissioni di gas a effetto serra provenienti dai trasporti dovranno essere inferiori di almeno il 60% rispetto al 1990 ed essere progressivamente instradate su un percorso di avvicinamento allo zero. Si tratta di una materia molto complessa e delicata che ho dovuto affrontare in poche righe e che tocca alcune tematiche già in discussione in questa ed in altre commissioni, come la nuova direttiva sulle energie rinnovabili per quanto riguarda i biocarburanti e il regolamento sull'omologazione e la sorveglianza dei veicoli e motori votato qualche settimana fa in plenaria. È mia intenzione coordinarmi con i colleghi responsabili di tali atti per garantire possibilmente delle soluzioni concrete e coerenti. Il parere affronta la questione dell'emissione dei diversi mezzi di trasporto, auto e furgoni, veicoli pesanti, aerei, navi, in estrema sintesi. Per quanto riguarda auto e furgoni, quattro sono le richieste alla Commissione. Innanzitutto, proporre un target di CO2 per chilometro al 2025, per le automobili compreso fra 68 e 78 grammi CO2 per chilometro e per i furgoni compreso fra 105 e 120, come già del resto richiesto in passato dal Parlamento. Si chiede inoltre di sviluppare al più presto un test su strada, su strada, trasparente e realistico, e di stabilire altresì un target coraggioso per la diffusione sul mercato di veicoli elettrici, incoraggiando la produzione europea di batterie di seconda generazione. Infine, è indispensabile lavorare su un sistema di etichettatura più trasparente sui consumi di carburante. Per quanto riguarda i veicoli pesanti, e qui esiste una lacuna, una lacuna molto grave, ho chiesto alla Commissione di elaborare una proposta sulla rendicontazione, certificazione e monitoraggio dei veicoli pesanti, delle emissioni dei veicoli pesanti entro la fine dell'anno in corso, del 2017, di proporre target di CO2 ambiziosi di medio periodo al 2025. Faccio notare che non esistono tutt'oggi, per questa categoria, di veicoli limiti chiari e precisi alle emissioni, pur rappresentando circa un quarto delle emissioni di biossido di carbonio causato dal trasporto su strada. Con riguardo all'omologazione, in linea con il dibattito in corso, ho riproposto un sistema di omologazione e vigilanza del mercato più trasparente, che includa la sorveglianza, ho insistito, dell'Unione Europea al fine di colmare le lacune evidenziate dallo scandalo di Selgate. Per quel che concerne il settore dell'aviazione, ho espresso delle perplessità sull'accordo poco ambizioso raggiunto l'autunno scorso in seno ICAO. In particolare, per quanto concerne l'obiettivo della crescita neutra di carbonio a partire solo dal 2020 e soprattutto il suo carattere volontario dal 2021 al 2026. Insufficiente anche la nuova proposta della Commissione, che ha stabilito di mantenere circoscritto ai voli interni all'Unione Europea l'ambito di applicazione geografico del sistema ETS aviazione, anche se siamo consapevoli che questa scelta sembra rappresentare ad oggi l'unica strada possibile in vista di un accordo più ambizioso. Ho poi sottolineato nel parere l'importanza di rafforzare il cielo unico europeo per ridurre le emissioni di CO2. Passando al settore del trasporto marittimo, ho ripreso quanto già approvato dal Parlamento nella proposta di regolamento ETS. Poiché l'Organizzazione Internazionale Marittima non ha raggiunto gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto seller previsti, sarà necessario che in assenza di sistemi comparabili operanti a livello internazionale le emissioni di CO2 generate nei porti dell'Unione e durante i viaggi da e verso i suoi porti ricadono nel sistema ETS a partire dal 2023. Per quanto concerne il superamento dei carburanti di prima generazione, ho chiesto target più stringenti rispetto a quelli previsti nella nuova direttiva sulle energie rinnovabili, che tengono in considerazione il problema del cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, pur garantendo la protezione degli investimenti esistenti. Allo stesso tempo chiedo di incoraggiare una più ampia penetrazione nel mercato di biocarburanti più avanzati, che tuttavia si conformino con il principio della gerarchia dei rifiuti e rispettano forti criteri di sostenibilità per evitare di ripetere gli stessi errori che sono stati fatti in passato con i carburanti di prima generazione. Ho infine sottolineato e concludo il ruolo che il gas naturale potrà e dovrà giocare nella transizione verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per concludere, anticipo che è mia intenzione presentare alcuni emendamenti integrativi al testo per sviluppare meglio alcuni punti ed introdurne di nuovi che per questioni di spazio non sono riuscito ad inserire nel parere in esame. Informo i colleghi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per il 3 maggio. Grazie.